Caldo come l'inferno, nero come il diavolo, puro come un angelo e dolce come l'amore. È così che il caffè deve essere. È così che il caffè deve essere. Un buon caffè è sinonimo di piacere, relax e benessere. Ogni caffè ha un sapore diverso ed è una piccola esperienza a sé.